C'è un'oasi immersa nel verde e nella tranquillità proprio nel centro di Verona. Un luogo in cui godersi una gustosa colazione, una semplice merenda o perché no una romantica cena. Un luogo in cui tutta la città di Verona sarà ai tuoi piedi. Colle 27, situato a pochi passi dal santuario della Madonna dei Lourdes, Colle 27 è un ristorante, gelateria, caffetteria a conduzione familiare, con un'esperienza trentennale nel campo della ristorazione e del turismo. L'atmosfera accogliente e la professionalità dello staff vi faranno trascorrere una pausa serena e davvero piacevole. Il tutto condito da degli ottimi prodotti culinari legati alla tradizione veronese e non solo. La cucina, in cui tutto viene preparato rigorosamente a mano, vi stupirà con il suo baccalà alla vicentina, con gli gnocchi fatti in casa, con le tagliate di manzo e molto altro. E se siete amanti dei dolci, concedetevi una coccola con dell'ottimo gelato, con una panna cotta ai fiori di sambuco o con una bavarese alla fragola. Colle 27 dispone di un ampio plateatico esterno circondato di olivi con panoramica vista sulla città, un'ampia terrazza e un bellissimo porticato. Aperitivi, buffet, feste private, eventi e cerimonie. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Colle 27 saprà soddisfare ogni vostra esigenza. Il banco bar, completo di vetrina con banco pasticceria, è a disposizione dalle 9 di mattina per le vostre colazioni e potrete anche usufruire della connessione internet gratuita. Per chi crede nei valori dell'ospitalità e dell'accoglienza, per chi sa valorizzare il proprio territorio, per chi rispetta le stagioni, la tradizione e la memoria, Colle 27, in via dei Colli 27 nella zona delle Torricelle a Verona, aperto da martedì alla domenica dalle 9 alle 23. Concediti il tuo momento di relax e goditi la città di Verona ai tuoi piedi.